Un grosso incidente si è verificato oggi, venerdì 9 marzo, poco dopo le 13, sulla strada provinciale 31 che conduce a Crescentino, sul ponte che sovrastra ad ora. Un grosso incidente si è verificato oggi, venerdì 9 marzo, poco dopo le 13, sulla strada provinciale 32 che sovrastra ad ora. Grazie. Grazie. Grazie.